Ma qua siete veramente in crisi o vi vedo tutti allegri? Perché volevo caffè, non c'è caffè. La crisi ce l'ha aumentata, ecco, la crisi, l'ena bufara. Ma non c'è mai capito? Domandosi, non è mica in crisi. No, non c'è mai capito. Ma non c'è mai capito. Ma non c'è mai capito. Perché qua è la Pugalloni e qua è la cultura. E continua a dire, c'è a richiamo, c'è a richiamo. E' un stress, c'è una crisi, crisi. Tutti i giorni.